prendersi cura della propria pelle usando tutti i metodi naturali e bio possibili a nostra disposizione spesso vi ho proposto dei video di questo genere oggi ancora una volta me ne propongo uno prepareremo uno scrub per le labbra ma che può essere usato anche per il viso visto la delicatezza gli ingredienti sono zucchero la buccia dell'arancia che abbiamo grattugiato del miele e del tonico uniamo tutti gli ingredienti iniziando dallo zucchero dalle bucce d'arancia poi metteremo il miele uno o due cucchiaini e infine metteremo il tonico se non lo avete a disposizione potete benissimo usare anche dell'acqua grazie a tutti sono tutti ingredienti naturali e naturalmente delicati e quindi questo scrub lo potete utilizzare non solo per le labbra ma anche per il viso vi consiglio però di non farne grandi quantità un vasetto piccolo come vedrete per poterlo consumare e poi subito massimo una decina di giorni non più di 15 mi raccomando e poi sono talmente così dei prodotti che possiamo trovare in casa tutti i giorni e quindi rifare di nuovo questo nostro prodotto tutto al naturale spero che questo video vi sia tornato utile se è così non vi rimane che lasciarmi un like in questo modo supporterete il mio canale se siete curiosi di scoprire tutti i prodotti bio che produco allora sfogliate la playlist beauty dei prodotti bio ma non solo anche quella dei prodotti bio per la casa se non siete iscritti vi invito subito a farlo attivare la campanella e a rimanere stretto contatto con noi grazie a tutti